I carabinieri di Palmi nel Regino, nell'ambito dell'operazione Nuove Leve, hanno arrestato 11 persone. C'è un nuovo indagato per l'aggressione a Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita dopo un pestaggio a Crotone. Si è celebrato a Vibo Valencia il 206esimo anniversario della Fondazione della Polizia Penitenziaria. Presentato alla Mezzia Terme, il libro, il PC, la Calabria e il Mezzogiorno, da Livorno al Partito Nuovo. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. I carabinieri della Compagnia di Palmi, nell'ambito dell'operazione denominata Nuove Leve, hanno eseguito due ordinanze applicative di misura e cautelari personali, emesse dal GIP del Tribunale di Palmi e dal GIP del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, nei confronti di 11 persone, di cui 7 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, tra di loro anche dei minorenni. Nuove leve e l'operazione che i carabinieri della Compagnia di Palmi hanno concluso nelle province di Reggio Calabria e Latina e che ha permesso di arrestare 11 persone, di cui 7 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Molti atti criminali ai quali è stata data una spiegazione e che vedono coinvolti anche dei minori. Uno riguarda 18 colpi di pistola sparati da due persone con indosso delle tute bianche e i volti travisati contro la portone d'ingresso e il garage di un'abitazione di una donna, rimasta illesa, probabilmente solo perché considerata la tarda ora, la padrona di casa si trovava in camera da letto. Un altro è avvenuto negli ultimi giorni dell'ottobre del 2021, quando i carabinieri della stazione di Seminara avevano denunciato un gruppo di ragazzi autori di un'aggressione avvenuta nei confronti di un residente del posto e dei suoi due figli minorenni, grazie anche alla collaborazione di una signora che era stata testimonia dell'aggressione avvenuta proprio sotto la sua abitazione e quindi in grado di riconoscere gli autori e di fornire i filmati della sua videosorviglianza. Circostanza che in seguito si rivelò collegata con l'intimidazione subita dalla donna con i 18 colpi di pistola. Le indagini che sono scaturite da questi due avvenimenti avrebbero permesso, oltre che di individuare i due giovani responsabili del danneggiamento, anche di ricostruire la fitta rete di comunicazioni del nutrito gruppo di persone per lo più tra i 19 e i 30 anni che non avevano problemi a compiere atti criminali, potendo contare anche sull'appoggio di loro conoscenti e parenti e in grado di reperire armi e droga con estrema facilità. Il GUP di Reggio Calabria ha condannato i cinque indagati nell'ambito dell'operazione Malapigna che avevano scelto il rito abbreviato, accusati di traffico illecito di rifiuti. Cinque imputati e cinque condanne. Il GUP di Reggio Calabria, Angela Mannella, ha condannato tutti gli imputati dell'operazione Malapigna che avevano scelto il processo in rito abbreviato, nello specifico Giovanni Delfino, classe 1993, a sei anni di reclusione, Alessio Alberto Gangemi, a otto anni, Riccardo Marino, un anno e quattro mesi, Giuseppe Antonio Nucara, otto anni, Domenico Amato, otto mesi. L'operazione Malapigna avrebbe svelato, secondo le conclusioni della procura distrettuale antimafia di Reggio, come il gruppo sotto accusa, sempre con diversi profili di responsabilità, pur di arricchirsi a dismisura anche con il business illecito dei rifiuti, avrebbe rischiato di avvelenare parte del territorio di Gioia Tauro. Insomma, affari sporchi per gli inquirenti realizzati con la benedizione dei potentati di Gioia Tauro, ovvero i piromalli. Un'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestare e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che portò all'epoca l'emissione di 29 misure cauterali personali, 9 in carcere e 10 domiciliari, 9 tra obbligo di dimora ed obbligo di firma e poi anche un obbligo di presentarsi giornalmente alla Polizia Giudiziaria, a cui ovviamente va aggiunto il decreto di sequestro a carico di 5 aziende di trattamento di rifiuti tra Calabria e Emilia-Romagna per un valore complessivo di poco più di 2 milioni e 300 mila euro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni, estorsione, ricettazione, peculato ed ancora falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, violazione di sigilli e danneggiamento aggravato. E c'è un nuovo indagato nell'aggressione a Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita dopo un pestaggio subito a Crotone nell'agosto dello scorso anno. Il GIP del Tribunale di Crotone ha disposto infatti l'imputazione coatta nei confronti di un 31enne di Petiglia Policastro con l'accusa di concorso anomalo in tentato micidio. Il GIP del Tribunale di Crotone ha accolto l'opposizione della famiglia di Davide Ferrerio e ha ordinato l'imputazione coatta per il 31enne Alessandro Curto, accusato di concorso anomalo nel tentato micidio del 21enne di Bologna, ridotto in coma irreversibile dopo un pestaggio avvenuto l'11 agosto in una strada del centro della città calabrese. Un episodio che ha all'origine un tragico scambio di persona. Curto è la persona che quella sera aveva appuntamento con la 17enne da cui è partito tutto e che poi inviò il messaggio che avrebbe indirizzato l'aggressione verso Davide Ferrerio. Del fatto è accusato come autore materiale Niccolò Passalacqua per cui il 3 aprile è fissato un'udienza davanti al GUP e di concorso anomalo nel reato rispondono anche la madre della 17enne. La ragazza comparirà invece al 5 aprile davanti al Tribunale Menorile e un altro giovane, Andrea Igaio. Per Curto invece era stata chiesta l'archiviazione ma la decisione del giudice che recepisce la memoria del difensore della famiglia Ferrerio si basa sul presupposto che il 31enne abbia accettato, seppur nella forma del dolo, uno dei prevedibili sviluppi della situazione. La 17enne quella sera di agosto aveva dato appuntamento al 31enne che la stava corteggiando sui social utilizzando il falso profilo con il nome dell'ex fidanzato. Per questo lei era andata nei pressi del Tribunale di Crotone accompagnata da alcuni parenti in una sorta di missione punitiva nei confronti dello spasimante. Secondo le indagini svolte dalla squadra mobile la trappola era stata organizzata dalla madre della ragazza che avrebbe stigato anche passa l'acqua. Quando però il corteggiatore si era accorto del pericolo aveva sviato le attenzioni inviando un messaggio alla giovane indicandole di avere una maglia bianca come purtroppo Davide Ferrerio che ignaro si trovava in zona e che venne aggredito. Nella giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia i cittadini crotonesi ma soprattutto gli studenti si sono ritrovati davanti al Palamilone dove sono stati letti anche i nomi delle vittime del tragico naufragio di Steccato di Cutro. Anche loro sono state vittime innocenti della mafia dei trafficanti di uomini. Gli studenti hanno fatto visita al Palamilone di Crotone dove oggi vi sono 12 salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Libera, l'associazione che da anni dedica il 21 marzo alla mobilitazione nazionale al ricordo delle vittime della criminalità organizzata ha deciso di inserire nell'elenco degli oltre mille morti innocenti anche i naufraghi di Steccato di Cutro. Lo ha fatto a livello nazionale ma anche a Crotone dove davanti al Palazzetto dello Sport diventato simbolo del dolore sono stati letti i nomi. Io sono onorata di rappresentare lo Stato oggi insieme a voi. Sono onorata di essere qui a Crotone e soprattutto sono emozionata emozionata di vedere tanti ragazzi di vedere tanta partecipazione. Sono stati gli studenti del liceo Gravina a leggere i nomi dei 35 minori e dei 52 adulti che hanno trovato la morte a pochi metri dalla spiaggia calabrese dopo una traversata di 5 giorni. Lo abbiamo deciso insieme a Libera Nazionale insieme a Don Luigi Ciotti perché noi riteniamo che siano vittime innocenti delle mafie delle mafie dei trafficanti di esseri umani e delle mafie dei trafficanti di esseri umani che fanno affari con le mafie italiane e che godono delle persone che si girano dall'altra parte. Presenta il neoprefetto di Crotone Franca Ferraro e le autorità civili e militari. Bisogna fare qualcosa per ricordare questa grevissima tragedia che ha colpito tutti ha colpito tutti perché tanti bambini tante donne era il viaggio dei ricongiungimenti quindi oggi in coincidenza con la giornata del ricordo di tutte le vittime di mafia siamo qui perché anche questa è stata una strage di mafia se vogliamo la mafia di chi organizza questi viaggi che poi portano alla morte di tante persone. Ciraga Zania Gobra Mohamed Payim Aref Sohid Asia Wazir Hamad Sodina Martezza Successivamente sono stati letti i nomi delle 250 persone uccise in Calabria dall'andrangheta. Vattallo Adriana Calciccia Senta che significato assume allora questa giornata per gli studenti? Per gli studenti è molto importante non solo per loro ma per tutti quelli che oggi partecipano a questa giornata è una giornata che ricorda appunto le vittime innocenti di mafia ed è la 28esima giornata noi a scuola abbiamo seguito dei percorsi inerenti a questa tematica ed oggi più che mai assume un significato importante e la memoria ci impone di ricordare questi nomi questi nomi devono graffiare la nostra anima come dice Don Ciotti e devono comunque imprimersi nella nostra anima incontro nella sala consigliare di Lamezia Terme di Italia del Meridione per dire no all'autonomia differenziata il decreto legge Calderoli andrebbe ad acquire il divario già esistente tra nord e sud Sì Italia del Meridione sta continuando la sua battaglia devo dire in solitudine perché le forze centraliste al di là dell'appartenenza di resti di sinistra continuano a fare melina e ad essere distratti da argomenti alti quello che più dispiace è l'assenza della classe parlamentare della reputazione nazionale eletta nelle circoscrizioni meridionali immagino per disaffezione alla propria terra o perché troppo legati ai diktat dei capi partito ma è un'assenza che non è certamente giustificata e che domani avranno una responsabilità unica su quello che succederà alle terre e alle genti del sud attuare la costituzione significa superare tutto quello che è il concetto di spesa storica calcolare e finanziare i leppi livelli essenziali di prestazione quindi garantire gli stessi ritti su tutta la penisola e sulle isole istituire e finanziare un fondo per equativo per le infrastrutture e un fondo per equativo per i comuni dopodiché non abbiamo nessun timore ad attuare l'autonomia differenziata ma soprattutto non abbiamo nessun timore di competere con le città del nord con i paesi del nord anzi probabilmente se partiamo tutti dallo stesso punto di partenza probabilmente si vedrà che la creatività del sud è superiore ad altri territori Con festeggiamenti partiti fin dal mattino la Proloco di Vibo Valencia ha voluto celebrare il suo primo anno di vita per l'occasione ha anche voluto attribuire a Michele Putrino la carica di Presidente Onorario tramiti leggende in realtà la nuova Proloco di Vibo Valencia è cresciuta velocemente attraverso una serie di iniziative che hanno raccolto la partecipazione del consenso corale della popolazione e così per celebrare il suo primo compleanno si è pensato di chiamare a raccolta i suoi sostenitori simpatizzanti per una festa così come si conviene per un compleanno appuntamento a Palazzo Gagliardi a far da padrona di casa la Presidente Giusti Fanelli è stato un sostenirsi di ricordi nuove performance ed iniziativa di carattere sociale presente tra gli altri il Presidente dell'Unpli Calabria Filippo Capellupo ospiti particolari i ragazzi del progetto Erasmus Spagna 2020 che sono qui a Vibo Valencia per questo primo compleanno la stessa prologo si è voluta fare un regalo ufficializzando la nomina di Michele Putrino straordinario scrigno custode della memoria vibonese a Presidente onorario tante emozioni soddisfatti per quello che è stato fatto tanti lavori in cantiere e tanti progetti e oggi è un giorno veramente importante per noi perché in occasione del primo compleanno di prologo abbiamo voluto festeggiare riconoscendo la carica di Presidente onorario a uno storico personaggio del nostro territorio vibonese che è appunto il dottore Michele Putrino quindi grande festa per lui al fine di lanciare un messaggio di proposizione e di proposta e promozione del nostro territorio necessario affinché possa trovare il suo vero slancio che merita per il patrimonio culturale e architettonico che merita di essere promosso non solo in Italia ma oltre il culmine di questo primo compleanno della prologo con una nomina particolare Presidente onorario veramente ringrazio che ha avuto questo pensiero perché non sono cose che capano tutti i giorni Michele Putrino per questa città ha sempre cercato di dare di fare di portarla avanti in giro per l'Europa per il mondo con il gruppo Folco Città De Vibo Valencia quindi penso che questo riconoscimento arrivato adesso possa dare anche significato al mio operato di tant'anni in giro per il mondo perché poi è un territorio di storia e tradizione sicuramente sicuramente senza così senza le tradizioni non si può essere vita non si può essere continuità quello che siamo e lo dobbiamo a quelli che sono stati prima di noi quindi ogni cosa ha la sua storia ha il suo divenire nel tempo l'associazione Agora Croton compie 35 anni nata da un gruppo di volontari negli anni 80 per rispondere ai bisogni del territorio crotonese era il 1988 quando a Croton alcune persone misero insieme dei numeri per soccorrere il prossimo farsi prossimo aiutare le persone affette da dipendenze l'epoca industriale stava per concludersi era il periodo delle fabbriche e oggi sono passati 35 anni da cui da quel giorno Agora Croton da un gruppo di volontari è diventato un'organizzazione con un numero cospicuo di dipendenti e in occasione dei 35 anni di attività è stato lanciato un concorso di poesie per gli studenti delle scuole elementari medie e superiori per la sensibilizzazione sulle tematiche sociali delle nuove generazioni è una storia lunghissima che è iniziata sull'impulso di un gruppo di persone che negli anni 80 capirono che c'erano dei bisogni che venivano a soddisfare dei bisogni che non trovavano risposte da parte del settore pubblico e che appunto vennero affrontati con grande energia io le chiedo come sono cambiati i bisogni nel territorio di Crotone i bisogni delle persone si è passati da una fase in cui si aveva la capacità di comprendere per esempio il grido di dolore di chi affrontava le dipendenze rispetto ad oggi invece è una fase in cui la povertà è dilagante una fase di decrescita che sta comunque creando grandi difficoltà alle famiglie e in questo senso noi cerchiamo di fare la nostra parte anche rispetto a temi nuovi ma relativamente da vent'anni a questa parte come l'accoglienza dei migranti ma il tema esiste tantissimo nelle carceri ci sono tante persone che soffrono di dipendenze ma anche ci sono dipendenze che non sono conclamate è un periodo che stiamo affrontando per esempio dipendenze da gioco che sono una nuova patologia e occorre comunque non fermarsi e cercare di avere la capacità di intercettarle avvertirle e fornire delle risposte prima sentivo siamo passati dal cuore alla testa come è cambiata Agoracroton da associazione di volontari ad organizzazione la trasformazione è evoluta perché comunque rimane un'impresa sociale un'impresa che quindi deve mantenere i conti in ordine deve saper affrontare anche quello che è il mercato dal punto di vista delle richieste operiamo su tanti fronti e abbiamo al momento quasi 50 dipendenti una realtà che intorno ha anche una ventina di collaboratori quindi numeri che richiedono ordine precisione anche amministrativa ma senza perdere però la nostra natura la natura quella di guardarsi intorno e comprendere ciò di cui si ha bisogno in questi 35 anni ci sono stati momenti di difficoltà di sconforto sì momenti in cui tanto tempo fa per esempio ci furono dei gesti dimostrativi dai nostri danni vennero bruciati dai mezzi momenti di crisi invece finanziaria dovuti per esempio al termine di contratti con la pubblica amministrazione che vennero bruscamente interrotti contratti di solidarietà in quel periodo in cui alcune persone ricevettero per diversi mesi lo stipendio nonostante tutto questo però parlo di una decina di anni fa si ebbe la capacità di andare avanti di recuperare da quelle difficoltà e di rilanciare la nostra sfida si è tenuto presso la casa circondariale di Vivo Valencia la celebrazione regionale del 206esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria è stata scelta la casa circondariale di Vivo Valencia per celebrare a livello regionale la festa della polizia penitenziaria presenti le massime autorità militari il vescovo della dioce Simon Signor Attilio Nostro con il campellano ed altri esponenti del mondo civile la cerimonia del 206esimo anniversario della fondazione del corpo con la direttrice del carcere di Vivo Valencia Angela Marcello che ha fatto da padrone di casa e la relazione tenuta dal comandante della polizia penitenziaria di Vivo Valencia Salvatore Conti mentre a fare il bilancio di quanto realizzato è stato in conclusione il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria liberato guerriero è un corpo a cui la collettività affida persone difficili e chiede a questi uomini e a queste donne di offrire a queste persone delle opportunità di riflessione di rinascita verso una vita possibilmente diversa per loro e per tutta la collettività quindi è un lavoro delicato per fare il quale abbiamo bisogno dell'apporto di tutte le altre istituzioni che con noi sono presenti negli istituti il suo discorso ha evidenziato proprio questo aspetto non dimenticando le criticità sebbene ci sia molto di positivo da ricordare sicuramente dobbiamo essere vigili attenti perché ripeto a noi vengono affidate persone private della libertà personale il mandato è alto e richiede un grandissimo impegno da parte di tutti io ho riconosciuto spero di averlo fatto ampiamente i meriti quando ci sono ma ci sono alcune cose su cui abbiamo ancora molto da lavorare un bel riconoscimento per Vibo Valencia che ha qui raccolto la politizia penitenziaria regionale sì siamo molto contenti di questa attenzione che ci ha voluto fare il nostro provveditore il dottor Liberato Guerriero è un momento molto bello avevamo bisogno di questo dopo il momento grigio del covid perché gli istituti sono in forte sofferenza l'ho detto nel discorso però è in questo momento che si trova la coesione il gruppo c'è siamo tutti veramente che operiamo soprattutto io parlo per il mio istituto mi sta dando grosse soddisfazioni nonostante tutto e vi ringrazio tutti ancora una volta perfetto grazie l'occasione è servita per annunciare la costituzione del distaccamento cinofili di annesso alla casa circondariale di Palmi formato da quattro conduttori con la prospettiva di crearne uno anche presso la sede di Vibo Valencia siamo giunti all'ultima notizia alla mezza eterna nella sede dello SPI CGL Calabria in collaborazione con l'istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea è stato presentato il libro il PC la Calabria e il mezzogiorno da Livorno al partito nuovo a cura di Lorenzo Coscarella e di Paolo Palma beh certamente partire da una partire da una storia che parte da lontano è molto significativo perché si tratta di storie di battaglie e di conquiste che hanno una loro radice che viene da lontano quindi questo è sicuramente anche una spinta per chi ancora adesso si batte per quegli stessi ideali sicuramente ovviamente il libro ha un taglio storico quindi racconta in modo più oggettivo possibile quelli che sono stati i fatti in base anche agli documenti in base ai vari luoghi analizzati perché si parte sia da tematiche generali sia da luoghi specifici che sono stati poi presi in esame dai vari studiosi sicuramente il materiale è tanto e c'è da riflettere sia per chi volesse conoscere semplicemente i fatti che sono accaduti sia per chi volesse appunto prendere da sprono e da monito per nuove battaglie partendo da quelli che sono stati gli ideali alla base di tante lotte di persone che ci hanno preceduto ovviamente dal punto di vista storico possiamo dire che restano le stesse battaglie restano le testimonianze che ci hanno lasciato resta l'idea dell'importanza di battersi per un ideale per la conquista di nuovi diritti leggere alcune delle pagine del libro ha permesso a molti di appunto di conoscere aspetti che ormai diamo per scontati le lotte contadine degli anni 40 ad esempio ormai sembrano lontane ma sono state comunque alla base di molte delle conquiste che ancora oggi di molti diritti che ancora oggi godiamo quindi perché no sicuramente c'è molto molto da imparare ancora ma è il risultato di un convegno che noi facemmo a fine del 2021 per i 100 anni del Partito Comunista abbiamo fatto questo convegno che è riuscito molto bene con un taglio meridionalistico per cui ecco il titolo il PC la Calabria e il Mezzogiorno perché ci sono una serie di saggi anche che riguardano altre zone del Mezzogiorno d'Italia quindi diciamo è un libro in cui la storia il trentennio di storia che esaminiamo dal 1921 al 1953 ha un taglio calabrese ma anche più in generale meridionalistico perché il Partito Comunista è stato un partito di forte ispirazione meridionalistica termina qui la nostra informazione ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo grazie per aver seguito il nostro TG l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio Europeo approvata anche una parte della risoluzione del Terzo Polo su cui sono arrivati anche i voti della maggioranza considerato il parere favorevole del Governo respinti invece tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni dopo il dibattito di ieri al Senato anche alla Camera la discussione è stata accesa Giorgia Meloni è tornata a difendere l'operato del Governo sulla questione migranti e nella sua replica a Montecitorio rivolgendosi alle opposizioni dice di aver ascoltato molte falsità ricordando invece quanto fatto finora sui salvataggi dei migranti dall'esecutivo dall'inizio del mio mandato l'Italia ha salvato 36.500 persone in mare noi siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro delle volte al di fuori dai nostri confini nazionali e raccontare al cospetto del mondo di fronte a quella a quell'enorme sforzo che stiamo facendo che invece lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è sì una calunnia non del Governo è una calunnia nei confronti dello Stato italiano la tanto contestata riforma delle pensioni voluta da Macron nonostante la rabbia popolare proseguirà il suo cammino democratico lo ha ribadito il presidente francese in diretta tv dobbiamo andare avanti nell'interesse superiore della nazione ha rimarcato Macron che ha spiegato rispettiamo le proteste contro questa riforma ma non le violenze in Italia oltre il 55% delle pensioni erogate ha un importo inferiore ai 750 euro e circa il 65% si attesta sotto i 1000 lo rende noto l'Inps spiegando che l'importo medio mensile è di 1359 euro con un valore più alto di circa 100 euro al nord complessivamente al primo gennaio 2023 le pensioni vigenti sono più di 17 milioni e 700 mila con un'età media dei pensionati di 74 anni conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca la tensione fra Kiev e Mosca continua a rimanere altissima il tema delle forniture di proiettili all'uranio impoverito che la Gran Bretagna invierà in Ucraina ha scatenato le durissime reazioni del Cremlino provocherà un'ulteriore escalation delle tensioni attuonato il ministro degli esteri russo Lavrov intanzo da Poriscia e di nuovo sotto attacco russo un raid ha provocato morte e 17 feriti e gli Stati Uniti accelerano sulle forniture di cararmati Abrams e missili Patriot assicurando che presto saranno in Ucraina e mentre la pace resta lontana la Banca Mondiale l'ONU l'Unione Europea e il governo di Kiev hanno stimato che per la ricostruzione e la ripresa dell'Ucraina serviranno 411 miliardi di dollari con un bisogno immediato di 14 mila miliardi di dollari Nuovo cyberattacco in Italia l'offensiva informatica è stata rivendicata dagli hacker filorussi del gruppo No Name 057 ad essere presi di mira tra gli altri anche i siti istituzionali di governo Camera Ministeri della Difesa Esteri e Trasporti la Polizia Postale ha precisato che i nostri sistemi informatici stanno tenendo nella rivendicazione si lamentano le attività di formazione di militari ucraini in Italia e la presunta chiusura di Giorgia Meloni a un negoziato di pace la procura di Roma dopo aver ricevuto l'informativa da parte degli specialisti della Polizia Postale procederà all'apertura di un fascicolo di indagine oggi nella giornata mondiale dell'acqua per l'ONU linfa vitale dell'umanità il rapporto dell'UNESCO spiega quanti devono cercare di sopravvivere senza 2 miliardi di persone il 26% della popolazione mondiale non hanno accesso ad acqua potabile sicura 3,6 miliardi a servizi igienici gestiti in modo affidabile la scarsità di acqua sta diventando endemica denuncia il rapporto e sta peggiorando con l'imminente rischio di una crisi globale tra i 2 e i 3 milioni di persone ne soffrono per almeno un mese l'anno secondo le stime del rapporto la popolazione urbana alle prese con scarsità d'acqua raddoppierà passando da 930 milioni nel 2016 a 1,7 2,4 miliardi di persone nel 2050 a 1,7 a 1,7 a 1,7 a 1,7